non c'ho più la voce, non c'ho più la voce, gratta tutto perché mi stavo incazzando come non so cosa perché non è possibile mangiarsi così tanti gol allora, prima di tutto la Fiorentina ha fatto una gran bella partita ok, ha giocato molto bene e si vedeva che la Fiorentina quando giocava, quando aveva pallone rispetto a noi, soprattutto dal gol in poi aveva molta più grinta, molta più voglia di cercare il gol noi sembrava che trottarellavamo, non lo so, non vedevo la rabbia e la cattiveria agonistica giusta quindi comunque complimento alla Fiorentina che, ripeto, per me ha una rosa validissima e sinceramente non so come in campionato stia andando così male forse gli allenatori non sono quelli giusti magari con qualche altro allenatore migliore poteva essere dall'altra parte comunque, secondo me, è una bella squadra la Fiorentina parlando dell'Inter, ragazzi allora, andiamo in vantaggio sul rigore che comunque, prima del rigore abbiamo avuto anche due o tre occasioni mi ricordo su calcio d'angolo Skriniar, in mezzo all'area di rigore da solo, va a tirare di testa la spara alta vabbè, c'è il rigore rigore che penso ci sia perché è andato anche a rivederlo finalmente sono contento che l'arbitro sia andato in entrambe le occasioni a vedere il VAR perché è quello che dovrebbero fare sempre sempre l'arbitro dovrebbe andare sempre a rivedere sia che ci sia che non ci sia deve andare a vederlo io infatti l'avevo detto tu vai a rivederlo poi si accettano le decisioni perché una volta che va a rivedere al VAR uno deve accettare la decisione dell'arbitro perché appunto è andato a rivederlo sa meglio magari due le regole di noi è andato a rivederlo cosa è successo? Sanchez, c'è un tiro di Eriksen molto centrale forse per la potenza Terracciano non riesce a stopparlo forse non se l'aspettava, non lo so ribatte, arriva Sanchez che anticipa il portiere tira in porta, prende il palo però il portiere lo stende molti hanno detto sì però ha tirato e concordo con voi nel fatto che quando uno tira c'è comunque la regola del vantaggio ma dal momento in cui la palla va sul palo e torna dentro l'aria Sanchez dopo aver tirato se voi guardate il replay Sanchez va verso l'aria di rigore tant'è che cade andando verso l'aria se Terracciano non avesse fatto fuori diciamo se non avesse atterrato Sanchez dopo che il pallone sarebbe andato a sbattere sul palo il pallone è andato verso l'aria di rigore e ci sarebbe stato magari un Sanchez lì pronto per buttarlo in mezzo invece Sanchez è stato atterrato e quindi penso che in quel momento lì c'è rigore cioè Terracciano è arrivato in ritardo su Sanchez Sanchez è anticipato punto e stop poi non lo so cosa ne pensate sul rigore non dato alla Fiorentina ragazzi penso che non ci sia nulla da dire io sono sono rimasto stupefatto veramente che l'arbitro avesse fischiato quel rigore dove io cioè da qui si vedeva che Skriner aveva preso la palla qui io non capisco cosa l'arbitro abbia visto perché se non sbaglio era pure posizionato bene io non so cosa abbia visto sto arbitro per dare il rigore fatto sta che devo fare ancora i complimenti perché non è da tutti andare al VAR e ritornare sulle sue decisioni quindi è questo che gli arbitri devono fare andare sempre al VAR ok e se c'è da ritornare sulle proprie azioni si ritorna sulle proprie azioni dire ho sbagliato ho visto male punto Lukaku ci ha salvato perché mancavano un minuto più i 2-3 di recupero mancavano pochissimo praticamente i rigori noi rigoristi ragazzi sapete come si è ammessi a parte Lukaku non c'è nessuno che riesca a tirare oggi l'ha tirato Vidal ha tirato centrale non è che abbia tirato chissà quale rigore però la vedevo brutta i rigori per fortuna è arrivato qua c'erano le proteste per un fallo iniziale di Lukaku ma sinceramente non ho visto niente cioè non ho visto un fallo su contrasti di gioco poi l'avversario addirittura ha lasciato andare Lukaku si è ritrovato da solo bellissimo il cross di Barella e Lukaku pur tirando la centrale un'altra volta ha risolto la partita però quello che voglio parlare io è quanti cazzo di gol ci mangiamo ragazzi oggi abbiamo avuto una caterva di gol cioè ci siamo mangiati una caterva di gol allora cioè quella più quelle le due le due più clamorose sono quella di Lautaro quando eravamo sull'1-0 cioè Lautaro ragazzi davanti alla porta cioè proprio davanti se non sbaglio era addirittura nei pressi dell'area piccola o addirittura dentro no forse non lo so comunque dentro l'area nei pressi dell'area piccola davanti alla porta col pallone pure che rimbalza senza nessuno che magari lo stacola fisicamente puoi tirare una saccagnata dovete fare era tirata fuori cioè ragazzi io lì ho detto questo è gol questo è gol questo è gol no fuori come fai come si fa a sbagliare un gol del genere è inaccettabile sbagliare quel gol il gol di Lautaro non si può sbagliare non si può sei davanti alla porta da solo col pallone pure che rimbalza quindi puoi tirare boom la saetta che il portiere non la prenderà mai e tu addirittura la vai a buttare fuori poi in altra occasione Sanchez cross dalla sinistra arriva non cattivo mettendo il piedino ci lecca la palla non so che cazzo ha fatto ma ragazzi ma stiamo veramente scherzando cioè lì deve aggredire la palla bisogna essere cattivi sottoporta cattivi vai lì prendi la palla l'aggredisci boom spacchi la porta la butti dentro non è che vai col piedino morbido perché così tocco la palla ma sveglia sottoporta siamo troppo poco cattivi ci vuole più cattiveria sottoporta più killer instinct sottoporta no andiamo sempre molle andiamo sempre piano poi vedevo vedevo ragazzi tacchi di qua tacchi di là c'è stato un rinvio da Andanovic con le mani Brozovic anticipa il giocatore della Fiorentina bellissima palla per Sanchez ha Achimi dall'altra parte da solo che potrebbe galoppare e cosa fa cosa fa Sanchez il tacco per far ritornare la palla Brozovic ma stai scherzando quando Brozovic comunque aveva 1-2 avversari addosso e tu fai il tacco ma ragazzi ma veramente c'è vedevo delle cose incredibili troppa superficialità c'è ragazzi così non andiamo cioè allora tu sbagliando così tanto contro la Fiorentina magari ti può anche andare bene in Coppa Italia contro la Fiorentina ma nel momento che tu incontri la Juve adesso la incontreremo se fai questi errori poi li paghi poi li paghi perché oggi se non c'è di supplementare tu finivi in pareggio la partita contro la Fiorentina brutta brutta partita Vidallo a un certo punto veniva saltato come un birillo perché era stanchissimo era morto Kolorov non ha fatto male tra Ranocchia e Kolorov sinceramente la difesa pure è tenuta abbastanza bene sinceramente mi aspettavo molto di peggio perché Coranocchia e Kolorov ragazzi Skrini a un certo punto è uscito perché stava rischiando il doppio cartellino sinceramente era meglio farlo uscire però comunque la difesa ha retto Vidallo a un certo punto era morto Eriksen ecco Eriksen Eriksen oggi è stato provato dal ruolo di playmaker devo dire che si e no nel senso secondo me potrebbe benissimo farlo però ha fatto certe stronzate ragazzi c'è stato un calcio d'angolo dove la palla è arrivata Eriksen che ha provato a dribbolare si è fatto prendere la palla e ha fatto il contropello della Fiorentina che abbiamo rischiato tantissimo meno male che lì c'era Kimi che come un razzo ha recuperato in difesa ha anticipato il giocatore che era Blau se no c'è 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 no oppure tanti passaggi sbagliati di Eriksen ho visto un Eriksen che ha fatto tanti errori tanti tanti errori però d'altra parte ha giocato anche una buona partita che magari se migliora potrebbe far di più però l'ho visto più pericoloso davanti con il tiro di Eriksen che poi ha scaturito il rigore c'è stato un altro bel tiro a giro se non sbaglio era sempre Eriksen che Terracciano ha fatto una grande parata un'altra occasione sprecata è stata quando Sanchez di testa era tirato addosso a Terracciano o anche un'altra volta Lukaku addosso a Terracciano cioè ragazzi abbiamo avuto tante occasioni tante tra Lautaro tra Lautaku tra Sanchez anche Skrignar c'è Eriksen cioè ragazzi abbiamo avuto un sacco d'occasioni buttate al vento vabbè comunque detto questo complimenti alla Fiorentina ripeto noi abbiamo giocato non benissimo però quello che importa è che siamo passati e non voglio dire una cavolata ma se non sbaglio adesso i quarti di finale che si giocheranno non prossima settimana ma tra due settimane saremmo appunto contro il Milan il Milan che ha vinto appunto anche lei comunque rigori quindi più o meno abbiamo fatto la stessa la stessa partita solo che loro contro il Torino che con tutto il rispetto alla Fiorentina ha repito superiore al Torino soprattutto come Rosa lasciando stare la classifica ma la Fiorentina è una signora squadra e vedremo andremo a vedere adesso ci aspetta la Juve andremo più stanchi più stanchi andremo se poi il Genoa la Juve e il Genoa ci fanno del favore di andare anche loro i supplementari allora magari si stancano un po' anche loro detto questo ragazzi io vi saluto sempre Forza Inter e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti